Nelle ultime settimane inevitabilmente parallelamente al campionato il Milan, i dirigenti della tecnica rossonera stanno lavorando sotto traccia per definire le strategie e i possibili acquisti in vista alla prossima stagione che dovrà vedere per forza di cose il Milan, migliorare l'attuale rendimento in campionato, migliorare quindi il rendimento con le medio piccole come questo allungando, rendendo più profonda la rosa e migliorando il livello tecnico della squadra in vista della Champions League dove abbiamo visto ancora ieri sera come il livello sia davvero molto molto alto e quindi nelle ultime settimane i dirigenti della tecnica rossonera stanno incominciando ad incontrare tante società, tanti agenti, tanti procuratori per capire come imbastire le possibili trattative, le prossime trattative in vista della prossima stagione sicuramente i continui problemi fisici di Ibrahimovic stanno parlando il Milan a guardarsi intorno per cercare il suo erede per cercare il giocatore che possa andarlo a sostituire quindi se da un lato il Milan ha già bloccato, vi ho già detto che il Milan ha già preso di Vokorigi del Liverpool il contratto triennale a 3 milioni e mezzo di euro all'anno più opzione per il quarto anno il Milan continua a guardarsi attorno continua, vorrebbe andare a acquistare un'altra terza punta quindi per completare il parto con Giroud, Origi, un altro giocatore e quindi nelle ultime settimane il Milan, come dicevo, ha imbastito questi colloqui ha incominciato ad approfondire con molti agenti mi dicono ultimamente ha approfondito parecchio i discorsi con il procuratore di Domenico Berardi per rinforzare alla 3 quarti il lato destro ha contattato l'agente di Scamacca Scamacca che sembrava essere molto vicino all'Inter ma l'Inter probabilmente anche per un ritorno di fiamma verso Lukaku ha dirottato quindi attenzione ad altri lidi e quindi Scamacca in Italia sembrerebbe che come unica pretendente abbia il Milan e poi il Milan che ha chiesto informazioni anche su Traore, sempre del Sassuolo e quindi cosa succederà? il Milan incontrerà i dirigenti dell'arte tecniche con i suoni neri dopo Pasqua incontreranno i dirigenti nero-verdi mi è arrivata ieri direttamente alla conferma da un addetto ai lavori molto vicino a casa Milan e mi ha detto i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara si vedranno con carnevali del Sassuolo subito dopo Pasqua perché il Milan ha messo gli occhi su Gianluca Scamacca e su Ahmed Traore due giocatori che piacciono tantissimo al Milan seppur la richiesta è davvero molto molto elevata però c'è un però perché il Sassuolo è sempre molto attento ai giovani ai giovani italiani e quindi il Milan potrebbe offrire delle contropartite tecniche interessanti potrebbe offrire Lorenzo Colombo attualmente in presito alla SPAL potrebbe offrire Marco Brescianini che ha fatto una stagione opaca al Monza ma che ha delle qualità importanti Marco Nasti che è attaccante alla primavera che sta facendo davvero tanti tanti gol con la squadra di Giunti e poi Daniel Maldini che potrebbe trovare nel Sassuolo nella realtà italiana, giovane proiettata al futuro di Sassuolo l'ambiente ideale dove continuare il percorso di crescita c'è anche da dire che ovviamente queste contropartite potrebbero essere utili per abbassare il prezzo ma c'è una concorrenza guerrita c'è una concorrenza davvero spietata per i giocatori sia per Scamacca che per Traore ma anche per lo stesso Domenico Mimmo Berardi dove tanti gol e tanti assist ovviamente hanno attirato l'attenzione delle principali squadre inglesi sembrerebbe che proprio per Scamacca sia arrivata un'offerta confermata anche dal direttore Carnevali del Sassuolo di circa 40 milioni di euro e io penso proprio che 40 milioni di euro in Milan non li tiri fuori per un giocatore come Scamacca un giovane di belle prospettive ma che in campo europeo non ha ancora maturato un'esperienza importante quindi dopo Pasqua ci sarà un incontro si cercherà di capire come imbastire una possibile trattativa con il Sassuolo il Sassuolo possiamo dire che è una fucina di talenti una grande miniera di talenti ha uno scouting importante ha un progetto tecnico davvero entusiasmante e quindi il Milan incontrerà il Sassuolo per capire come imbastire la trattativa mi dicono anche che il Milan potrebbe imbastire una trattativa molto simile a quella di Locatelli quella di un presidio biennale con obbligo di riscatto quindi che potrebbe andare a posticipare il pagamento che esce a due anni dall'acquisto Sassuolo che potrebbe essere favorevole a questa tipologia perché già in passato non solo con Locatelli ha dato vita a questo tipo di trattative vedremo vedremo cosa succederà una cosa certa il Milan non può più basarsi sul carisma sull'esperienza di Zalatini però invece ci serve un giocatore concreto lì davanti che giochi con continuità perché il rammarico di tutti un po' di tutti i tifosi seppur ci lega una grandissima stima a Zalatini e Brevoci che il Milan se avesse avuto un attaccante di giovane di grande prospettiva che avrebbe che avesse garantito continuità avrebbe potuto il Milan essere lì davanti ancora più protagonista ancora meno faticante ancora con maggiori punti di stacco dalle inseguitrici questo è il nostro pensiero vedremo le notizie sono confortanti perché il Milan da quello che filtra da quello che arriva nelle varie relazioni il Milan farà un mercato importante sembrerebbe che una volta che ci sia la qualificazione certa matematica alla Champions League il Milan potrà ufficializzare Botman o Rigi e mi dicono anche Renato Sanchez quindi potrebbe potrebbe venire fuori davvero un gran bel Milan fatemi sapere amici di Rubrica Rosso Nera e come sempre se vi è piaciuto questo video vi voglio mettere un mi piace di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera grazie a tutti